Siete! Ah, vedi quella? Calma, ragazzi, sta pure il marito. Guarda come cammina pare il leone in gabbia. Vai, dai, gioca, gioca! Sette! Cinque! Sette! Tre! Tre! Sette! Oh, ma non hai visto che pezzo di paciocca? E se quella non è la più bella di Roma, mi faccio tagliare! Oh, non si è in piccola! Ma che siete diventati armafroditi? Tu che c'hai da guardare? Io? Ma chi te conosce? Abbottati. Sì. L'allero. Abbottati. E adesso zitto e fino a casa. E sette rivorti te sottero. Oh, ma chi sono quelli? Sono Gnecchio e Rosetta. I voi li conosci, no? E me ma ha conosciuto. Pare che il marito fa la spia per conto del governo da tenere colata. Ammazzalo quanto è bella. È così bella perché fa la modella da uno scurtore. A presto e quella ci ha persa la testa tutta Roma. Ma sono rimasti tutti a bocca asciutta. Beh, io non ci chiamassò ne l'ho rimediato. No. 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 No.